Oh, se ne sta andando, se ne sta andando, corri, corri, cavolo, ragazzi, mi stanno seguendo i Man in Black, sanno che è un negozio troppo potente, e guardate, porca bocca, ok, 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 sono proprio arrabbiati, ho rotto il Matrix, ho rotto tutto, devo correre, la signora in rosso, è la stessa signora di Matrix, mamma mia, io, eh, va bene, questo palese, palese, il Matrix si sta rompendo, perché il mio negozio sta Aprendo, Gabby Mercato, bentornato, devo dimostrare quanto son potente, guardate la forza del prescelto, strike, strike, ragazzi, e farò lo stesso anche con voi, uno a te, e uno a te, anche lui ha rotto il Matrix, ragazzi, va bene, ma è arrivato il nuovo zucchero di canna, non quelle, comunque, il zucchero di canna, che si chiama sempre Su, 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 e dove va? Su, su, sopra qui, anche se potevano fare la variazione giù, 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 e su, 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 sarebbe stato perfetto Ma, ehi, credo troppo dalla vita, comunque siamo tornati nel nostro Gabby Mercato, è arrivata la nuova merce, nuova mercanzia, nuove cose, ragazzi, qui si lavora Ragazzi, cosa abbiamo qui? Altro giù, 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 perfetto, andiamo a metterlo giù, 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 qui Ah, peccato, eh, ho messo la farina per sbaglio, quella andrà rimossa dopo, per adesso mettiamo le cose in più, sempre nel nostro buon vecchio magazzino Ci penseranno i nostri prescelti qui, qui cosa abbiamo? Oh, la carne della nonna Giovanna, viene proprio, è il salmone, mamma mia il salmone, ragazzi Qua abbiamo il reparto sushi, secondo me il salmone ci può stare qui vicino, oh boy, benissimo, questo sarà il reparto salmone Sto cercando veramente, con fatica, direi, con fatica, di diventare un po' più ordinato, ma direi che 1,70 ce lo mettiamo nel satichetto Anzi, 1,70 è un po' poco per il salmone di profitto Facciamo 9, oh, costa tanto il salmone, viene là dai laghi nordici, cioè, provate voi ad andare in Antartide a pescare il salmone Perché il mio arriva da lì, abbiamo su, 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 sopra qui, finiamolo, un reparto deve essere completo, se no non sono contento Ok, qui cosa abbiamo? Altre uova, no, le uova C'ho già reparti pieni di uova, ecco, le mettiamo qua, poi quando questo finirà faremo solo reparto yogurt Perché per adesso dovevo aspettare che finiscano le disgrazie, i miei peccati del passato di cui mi vergogno, hai capito? Tirami un pugno, ti prego, tirami un pugno Ah, è sempre molto generoso con i pugni lui Poi abbiamo altra bella carne del manzotin, che questa va, non va nei fri, no, deve andare qui Mmm, per fortuna abbiamo un reparto carni, quindi gli diamo la carne proprio qua E anche a Carlo ogni tanto la carne si deve dare, Carlo, oggi lavori eh Però è dirigente, però è dirigente, questo mi va bene Questa gli diamo è quella carne di Kobe Sapete che c'è la carne tipo Kobe, no? Carne di Kobe, quella che costa tantissimo Io la produco, e voi la producete? Io la produco È il mio prosciutto Ok, andiamo a buttare via Guarda quanto si respira Qui invece ho messo una nuova cassa nelle cose dove metto i cassettoni Sì, e anche voi li rompete sempre i cassettoni Comunque ragazzi, adesso andiamo su mercato Che vi mostro una cosa, anzi, su gestione Noi ora potremo intanto sviluppare una nuova zona E devo farlo 12.000 Vabbè, lo faccio ragazzi Perché pian pianino dobbiamo espanderci, conquistare nuove terre Guarda dove stiamo andando Lì in fondo Ok ragazzi, sta facendo strana questa cosa Quindi stiamo andando in avanti Io avrei preferito espandermi in largo Ma devo andare in avanti E niente, in stretto allora dobbiamo andare Che fatica Vabbè, per adesso lasciamo un po' bruttino Perché dobbiamo comprare tutto Se vogliamo fare le cose fatte bene Una cosa potremmo fare, avete notato qua Ma che bellezza che opera di ingegneria massima Oh, guardami qua col cappellin Chiamatevi dottore Dottor Gabi Ingegnere Perché ho creato questa sorta di buco nel muro E mettendo proprio un coso qui Proprio guarda ci entra perfettamente Oh, ma non è una cosa che proprio ti fa gridare al miracolo Di come sono riuscito a venire fuori con questa idea In realtà l'avevo vista in internet Comunque, è sempre un'ottima idea quando la rubi bene E adesso vedete qua abbiamo il reparto latte e uova Che andrà modificato Adesso aspettiamo che finiscano E va bene così Ma poi andranno tutte lì Mentre qua potremmo mettere le bivite Pensavo di mettere qui tutte le bivite da coca cola Apriamo comunque ragazzi che oggi si lavora Si lavora e devo anche lavorare anch'io Questa volta Carlo facciamo la gara Così lo sprono un po' Esatto Oh no Sono tornati i mine in black, ve li ricordate? Stanno controllando Sanno che sto rompendo il matrix Stanno tutti con ceca e cravatta Non vi sembra strano? Teori dei complotto qualcosa di più Troppi cravattoni Troppi cravattoni Non va bene Allora ragazzi Stavolta come ho detto Mi metto anch'io Ci sono anch'io in questo mondo Ci sono anche in questo mondo signori Questo bello grande grosso lotatore Dull'UFC Ce l'abbiamo Carta ma lei è un maestro signore E non facciamo regali qui Al massimo qualche sconto Ogni tanto ma proprio Ogni tanto ragazzi Perché devo fare qui? Perché io Vi mostro al computer Se voglio Prendermi Nuovi Nuovi persone Ad assumere un cassiere Mi servono 400 vendite Il record E io voglio un nuovo cassiere ragazzi Non dobbiamo privarci Dei nuovi cassieri Quindi Dobbiamo assolutamente Andare avanti Dai su 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 Veloce Bene così Bene così Il signore qua È sempre lo stesso ragazzi Vedi? Vedi perché io Io creo contatto con i clienti Ma com'è andata oggi Con sua moglie Ma com'è andato? Ha portato a spasso al cane Il signore In realtà non mi frega Niente Io voglio solo fatturare È questo il mio unico stile di vita Però Così amalgamando il cliente No Mettendolo con le mani in pasta Facendogli credere di avere il potere In realtà Il potere ce l'ho solo io Mamma mia Bisogna essere un po' simpatici Altrimenti Capito? Ormai Se vogliamo mantenere il lavoro da cassieri Perché Chi lo sa Quell'intelligenza artificiale Ormai Se verrà rubato pure Quello dalle macchine Signora Quindi noi cassieri Adesso dobbiamo dare qualcosa di più Oltre a fare il nostro Lavoro manuale di cassa Quasi arrabbiati Che i clienti dicono Ma che noia Ormai i clienti Vivono su tiktok Quindi hanno bisogno di tic e tac Dei trick e track E allora come ovviare a questo signore Che cosa sta aspettando È giusto È giusto E allora il tè nero se lo becca Quello che stavo dicendo ragazzi È un discorso serio Un discorso che vale Anche per la società d'oggi Il discorso è questo ragazzi Ormai devi fare lo youtuber Devi fare lo youtuber Devi intrattenerli Tipo mi dà la carta Il signore Adesso vedete Ecco mi dà la carta La prendo Poi gli faccio il trucco magico Divento jack nobile E poi la faccio sparire Riapparire Gli faccio anche sparire I soldi dal conto Ci mettiamo su Eccoli qua Che mago Ecco Sentite qua Per trattenere il denaro Bisogna intrattenere il cliente Ehi selenina Quella è selenina Una modella Ha un onzin fence Un onzin fence Vengono tutte da me Tutte da me Tutte da me Perché Perché sa intrattenere il mio negozio Carlo invece è un po' inutile Nessuno lo vuole Ma non sono un po' perché disgraziato Ma io Io sono di un'altra pasta ragazzi Sono Uno youtuber mercato Sapete che bello Cioè se io aprissi un negozio Veramente il gabi mercato Dove mi metto alla cassa E vi intrattengo Intanto faccio un video Secondo me Sai che è successo Questa combo Bisogna inventarsi nuovi lavori ragazzi Quando non ci sono Inventateli Ma guardate come passa il tempo Signori buonuomini Scusatemi Scusatemi Come passa il tempo Quando ci si diverte Al lavoro Eh Rosicate che io mi diverto Al lavoro Ma perché io qua Ho un'attività Di tutto rispetto Signori Non sono come voi Parassiti Che siete qui A comprare A rubarmi i prodotti E pretendete pure Che ve li dia Ci starebbe Esserebbe anche il minimo Scusate Stavo scherzando È intrattenimento Intrattenimento Eeeh Ehi baby E ce l'abbiamo fatta Un'altra giornata è andata Pi 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 iri Pi 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 ripiri Kim Pam Il profitto massimo Che bellezza E sia un'altra giornata La birra lager Non va piu Nem Mi non Su pezza Come diceva sempre mia nonna mio padre vuoi un caffettino si prendiamo un tanto caffettino prendiamo tanto fantasma formaggino Latte lo prendiamo dobbiamo anche potremo completamente riempire uno dei locali tipo cinque pacchi di cereali patatine fritte dobbiamo andare un po sulla cioccolata che ci manda quella di manda invisibilio lindor Lindor per favore viene la mia door mettiamo anche dolci torta torta Burro d'arachidi mamma mia il burro d'arachidi ragazzi nella vita reale come vi ho detto troppo buono troppo top ok lasagne Asciutto crudo e andiamo e andiamo fatto una spesa grossa spesa poteva Posso fare il muro qua un muro completamente Tipo trincea contro gli altri negozi no che lo so che loro stanno per aprire lì d'incleberg vogliono fregarmi Io faccio un muro di scaffali per della mia ricchezza in questo modo sarà guerra Allora altra acqua l'acqua l'abbiamo finalmente imparata a riconoscere non è proprio la stessa marca però va bene Uguale l'importante è che acqua sia poi magari faremo un reparto proprio Acquario no un reparto solo di bottiglie d'acqua che ci stanno pure i pesci dopo sarà bellissimo Io spero in un update con l'acquario poi abbiamo la cioccolata Cioccolata Reparto dolci potrebbe essere Ok questo mi sembra abbastanza un reparto dolci lo mettiamo qua Perfetto l'importante è capirsi riempiamo tutto riempiamo tutto e tra po come dico sempre anche il portafoglio Continuiamo così ragazzi continuiamo così che si sta felici Prendiamo la vita con un po di ottimismo Ok o la vodka avevamo già iniziato a decidere quale reparto alcolizzante Di solito era questo Dove potrebbe stare il mio alcol vabbè lo mettiamo qui dai come un bancone del bar no che dietro le casse Sapete secondo me metterlo dietro le casse fa tipo E' anche un bar la mia cassa può diventare di tutto e io sono un genio sono un visionario Ho le visioni Forse anche a causa del troppo alcol e della depressione che mi viene a gestire questo negozio che poi alzo il gomito la sera Forse anche per quel motivo potrebbero succedere cose Ma è chi sono io per giudicare per giudicarmi per giudicarmi insomma state buoni poi andiamo qui Ragazzi il ketchup dove potrebbe essere ragazzi Avete 5 minuti da decidere scrivete in un commento subito ora e lasciate like Bravi avete detto benissimo il ketchup non va da nessuna di queste parte Il ketchup deve andare per forza qui e subito gestire il prezzo prima che i ladri Arrivino mamma mia Come dei gabbiani sapete che i gabbiani sono abbastanza infami nei negozi ti rubano tutto Io non sono uno di loro io mi dissoci io sono un gabbiano domesticato Ragazzi parta il montage finiamo con gli ultimi dai Che lo riempiamo tutto Continui il montage non me ne frega niente Ma sapete una cosa ma buon venga Direttore della banca mediolano dottore professore Entrasti fatemi vedere anche a come siamo messi ora un attimo Sì gestione gestione Manca pochissimo Mi devo assolutamente mettere qua a vendere un po' Assolutamente quello lo farò Ma intanto abbiamo il duro e arduo compito Di gestire questa gabbia dei matti Compreso me Compreso me non tranquilli e compreso lui il signor tour pop il ladro di mister muscolo L'assassinato per poter prendere il suo posto Allora qui abbiamo il burro d'arachidi il burro d'arachidi dove potrebbe andare mi sto confondendo È un reparto sibillino quello del burro d'arachidi Ah non so se metterlo dal ketchup Non mi piace come reparto Ah di fianco al ketchup ci sta qui Questo reparto un po' vicino anche alla cioccolata Ma non proprio alla cioccolata Un cliente sta aspettando per pagare E che aspetti ancora un po' Qui abbiamo la maionese La maionese Qua ci sta vicino al ketchup Potremmo fare anche doppio reparto no? Ketchup e maionese Intanto non serve così tanto Chi è che compra 85 bottiglie di ketchup? Ragazzi dai Obesini Fa male se si esagera Qui invece abbiamo le torte Molto artistiche le mettiamo qua Come ho detto Questi hanno già il prezzo Fammi vedere se gliel'ho messo Ma secondo me si potrebbe aumentare a 2 questa roba Oh Il profitto massimo Ok 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 Su è arrivato Zam 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 E questo 3 kg di vodka L'intenditore abbiamo Mamma mia Questo quando cammina fa praticamente La sigla dell'anatema russo Probabilmente Ok Qui abbiamo a posto Vedete anche come mi sono velocizzato Ma quello vuole fare la salsa rosa Mi ha ascoltato la signore 33 euro di resto Sempre Lui torna Vedi Più grossa è Più può portare col carrello Vedi Chi alza pesi Alza spesi E l'alleggerisco un po' Signore Faccio come Il paninaro dove è andato a Zeb A Bibieno Dove era lui Insomma Lui diceva E io l'alleggerisco Con 3 euro e 50 Lui si è operato Tutto ragazzi Questa è esperienza Questa è esperienza Questa essere intrattenitore Oltre che A paninaro A macellaio Quello insomma Il suo lavoro Di cui ho il massimo rispetto eh Però dico È bravo Cioè È bravo Dobbiamo dare lavoro Anche a quei due Che sono sempre lì fermi Se volete fare qualcosa Io qualcosa ve la do da fare Ok Continuiamo a mettere le cose in più in magazzino Così questi qua si svegliano un po' Olla Vedi Ecco Bravo Giovanna Bravo Arturo Bravi E intanto arriva notte E intanto arriva notte Entra un po' anche le botte Ragazzi Piano Dai Insomma Ma fai anche tu qualcosa Carlo Quanto siamo messi Ci manca Metà Metà Altri cinquanta Ti viene voglia di andare avanti Però io ho anche un gestione Ti sa parlare oggi Allora Nuova sezione Non ho i soldi Vorrei Ma non ho i soldi Licenze Non posso Posso solo comprare qualche prodotto E se andiamo avanti così Forse riusciremo a fare qualcosa Ecco Carta igienica Ecco perché vedevo persone Che avevano letteralmente La macchietta Sotto il popo Eh se non gli vengono Sono l'unico negozio della città E questo è il bel Meno concorrenza Però più doveri Da grandi poteri Derivano grandi responsabilità E non dare la carta igienica È proprio da Non essere signori Oh 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 Stai andando Vendendo un prodotto Senza aver fissato il prezzo No ragazzi Ehm Non ho fissato il prezzo Del su 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 No Mamma mia Errore Orrore imperdonabile Meno male ragazzi Sì arrivo Arrivo sempre Ciao Devo solo fatturare Un'altra giornata Di duro lavoro Devo solo fatturare Ti prego Devo resistere Non devo Non colpire il cliente Non colpire il cliente Devi solo prendere denaro Non colpire il cliente So che sei stressato Ma non devo fargli del male Devo resistere Il potere oscuro E ce l'abbiamo fatta anche oggi Abbiamo vinto Abbiamo vinto Campioni nel mondo Siamo fantastici Ma che bello orecchino Signora Ci passerò in mezzo con l'aeroplano Così faccio Carletto come andiamo Dai che siamo bravi Ogni tanto si impazzisce un po' ma l'importante È tornare normali Voi non ce la farete mai ma mi spiace per voi Siamo tornati in un'altra giornata Non ho visto che cosa è successo ma Purtroppo tante cose sono passate di moda La gente cambia i gusti come l'aria Birra fermentata questa sempre Sempre la birra Non deve mancare mai Nel mio negozio mai E dobbiamo anche comprare nuove licenze Questa volta si è divertito Il fattorino a farmi una bella torre Ma voglio dire Quando bevi della birra buona Così come puoi La festa Fai sempre festa Con la mia festa Allora Si sboccia Beppe 8 euro questa 30 euro per un coso così Li posso anche chiedere Intanto come ho detto sempre Si può aprire Perché no? Perché no? E diamo del lavoro da fare Anche a questi Sfatti Sfattricati Fraccanati Sfacchinati Fattorini L'importante è che sia Uuu E questo cos'è? Cos'è? Carne di squalo? Shark? Stark? Non so cosa sia Ma sicuramente va In questi locali Allora localizziamo Piuttosto dove Qua c'era il sushi Qua c'era il salmone Mettiamolo vicino al salmone Dai Ci sta È tipo pesce Quindi ci sta vicino al salmone Lo buttiamo qua Le scatole vanno bene Eee 7 euro avanti è il problema quando apri poi allora qui abbiamo al tramosso mozzarella italiana biologica buona brava bella mozzarella Devo anche inventarmi ora le canzoni perché come vi ho detto la gente viene da tik tok e se non fai un balletto mentre il prodotto in mano non li convinci Non funziona così ragazzi Non convinci nessuno Per quello io lascio aspettare Il man in black Tu sei un traditore della patria Tranquillo e coccoloso Gabby Tranquillo e coccoloso Fai vedere che sei normale Sì signore Sì signore 0,25 centesimi signore Ho sbagliato signore Posso sbagliare vero? È normale sbagliare Faccio parte della società Io sono integrato nella società Vedete se ne è andato per adesso Ma torneranno Tornano sempre L'abbiamo scampata una volta Ma i man in black torneranno A controllare che io faccia parte del matri Ah è tornato Dottore Dottore veramente Non me l'aspettavo da lei Un po' scima guarda La ringrazio dottore Lei sempre Eh te credo che è magra come uno stuzzicadente Mangia un barattolo di maionese E basta Mi stanno un po' derubando Però così finalmente avremo il locale Tutto per noi A fine episodio adesso Oltre a comprare un nuovo cassiere Noi ci mettiamo e organizziamo tutto bene Così si fa Bene Qui abbiamo altri 9 euro No resto di 0 Quando è bello Quando è così Dimmi che Dimmi che ti piacciono i dolci Senza dirmi che ti piacciono i dolci Allora Punto 08 Bene Gli verrà il cagotto 6 E ok Allora Quanto siamo al record famiglia Del record mondiale Incredibile Bravissimo 376 Dai che manca poco Dai che manca poco Dai che manca poco Signore Dai che manca poco Questo è gas Quello di Breaking Bad Prende gli ingredienti Per lo Spollos Hermanos Grandissimos Dai velocizziamo Montage della cassa Per dimostrare Quanto siamo forti Posso chiudere la cassa? Sì Ho chiuso la cassa Sì si può chiudere Ma non avevo visto Che c'era il cartellino Wow Però non volevo proprio chiuderla ragazzi Però c'è il tastino Io non sapevo Si potesse fare Questo è ottimo Ora abbiamo un po' di tempo Quanto mi manca Solo dieci Solo dieci E ci siamo Che bellezza Quando è così Mi diverto assai Ma che bellezza Ma che mi dici mai Compriamo due fette di pane La farina nuova Un po' di cereali Un po' di pasta E un po' di acqua No acqua no Un po' di burro Dai che manca sempre Acquistiamo intanto questi Così abbiamo robe da fare E questi Oh cavolo Mi mettiamo No No in cassa no 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 Aspetta 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 Questa va qui Questa andrebbe ripresa Facciamo una cosa fatta bene Per ripulire Quel locale lì Che proprio non mi andava Che andasse così Lo mettiamo tutto qui E l'abbiamo ordinato Uno l'abbiamo ordinato Qui possiamo Levare il cartellino Levare i cartellini In eccesso In superfluo Invece queste altre cose Sono lavori per i magazzinieri Quindi adesso avrebbero lavorare Perché in teoria Hanno lavoro da fare Quindi queste robe Le mettiamo tutte qua Oh la che si muovono Oh che l'economia Continua a girare Come piace a me Bene bene Bam Anche loro buttano via le casse Eh Ma state attenti A non buttare via prodotti Allora Finiamo gli ultimi che Gli ultimi saranno I primi Benissimo Sono proprio giusti giusti Per comprarmi il cassiere Daie 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 Che mi pago Un nuovo cassiere E dopo non devo più farlo io Cioè lo potrei fare Per sbloccare ancora Un altro cassiere Siamo avanti all'infinito Diventiamo un Satisfactory Viete presente il gioco Satisfactory Si fa così Guarda pure le scienziate qua Del CERD Wow Wow Carlo Che giornata stratosferica Possiamo finire il giorno Buttiamo tutto in cassotta Abbiamo fatto 4000 dollari Si continua Si lavora Si fattura E ora andiamo su indietro Andiamo su gestione Andiamo su assunzione Oh ne mancano tre Ne mancano tre Porca vacca Per un pelo Ok 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 ragazzi Ok Sta prendendo un certo ritmo Ottimo Sta prendendo un certo ritmo Ottimo Adesso sono diventato io il magazziniere Praticamente Però finalmente io ho dato Del lavoro anche questi qua Li vedevo un po' troppo Smilzi Bene Poi anche sto magazzino Va ampliato Perché così Io ci capisco poco È molto incastrato E non Sembra di stare in una prigione Di isolamento Quindi non credo che Una prigione di isolamento Vada bene come Tipo di lavoro Ecco possiamo dire Però Però Adesso signori Posso comprare Il nuovo carletto Ma questa volta Lascerò scegliere a voi Nei commenti ragazzi Sarete voi A decidere il nome Del nuovo cassiere Assolutamente Non accetto Altrimenti Ecco qua Bruce che deve pulire casa Eh 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 Perfetto E con le ultime due signorine Dovremmo stare A cavallo E io vado in pensione Dai che Sono a due A due vendite Dalle Bahamas Facciamo anche tre Per essere sicuri Zero e novantanove Lei è un infame Signora Lei è proprio Un infame Allora Scusi 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 Cassa chiusa Cassa chiusa Ah 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 Carlo Ah 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 Divertente Quando gli faccio Sti scherzetti Ora gestione Andiamo Su Assunzione Posso assumere Un nuovo cassiere E questa volta Ma siete uguali ragazzi Siete due gocce d'acqua Ma non potevi dirmi Che avevi un gemello Apro la cassa Ragazzi Date Dal nuovo Signor Decidete voi Ragazzi Commento ora Per decidere Il nome del nuovo cassiere Sarete voi a deciderlo Il commento con più like E più divertente Lo decidiamo Questa qua Guarda Cerca L'isola miraggio Che non c'è E niente ragazzi Direi che il locale Sta filando Fila meraviglia E avere due cassiere Ora mi renderà anche Le cose più complicate Perché I prodotti Vedete Vanno sempre a ruba Nel prossimo episodio Se ci sarà un prossimo episodio Quello che dovremo fare È semplicemente Riempire Tutto Che sia un Un negozio Rinfornito L'eccesso La cosa bella di questo negozio È che niente va male Tutto va finito Invece se In gombri In gombri Fai sì Un bel vedere Ma anche Insomma Tanto cibo sprecato E poi I poveri piangono Ecco Io non voglio questo Aspettate Cos'è questo Oh no Oh no Sta succedendo qualcosa Lì fuori Oh cacchio I Tinkleberg Hanno aperto Un nuovo negozio Non ci posso Un negozio di animali No ragazzi Non può essere E allora vuol dire Che nel prossimo episodio Io farò lo stesso Aprirò anche un negozio Di cibo per animali Per il tuo cane Lo farò lo prometto Ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi Ad mai ora Ciao